L'augurio a tutta la comunità marchigiana è quella di un anno fatto di serenità, ti salute e spero anche di un anno fatto di tante soddisfazioni, nella prospettiva di una comunità che continua a crescere e continua ad essere orgogliosa delle nostre origini, della nostra identità, ma soprattutto che possa avere chiaro in mente la visione di una regione forte e autorevole che riesce a ritagliarsi uno spazio e una credibilità e di considerazione nel contesto nazionale e internazionale.